allora ci siamo buonasera a tutti questo è il primo video della pagina facebook impariamo l'ebraico biblico biblico con iosef ho pronunciato bene iosef in realtà la pronuncia sarebbe iosef però va bene iosef allora a me purtroppo mi conoscono ho detto anche a me mi io sono giampiero e sono insomma il direttore di greco latino vivo mentre alberto è il nostro diciamo docente di ebraico anticipiamo che su greco latino vivo ci saranno grandi novità a partire dal prossimo anno accademico proprio sull'ebraico però però ci riscaldiamo diciamo ancora non diciamo nulla però ci riscaldiamo perché questo è il primo incontro e io sono assolutamente a digiuno d'ebraico e saranno la maggior parte credo delle persone che ci seguono esattamente e io e oggi inizierò a imparare a leggere l'ebraico biblico quindi signori io voglio dire una cosa a casa se non mi vedete tornare alla polizia potrei potreste trovarmi non è così difficile non è anche del greco antico non è così difficile questo è questo è per la via dai diciamo che più o meno è lì è lì e siamo lì siamo lì siamo lì siamo lì allora impariamo a leggere l'ebraico biblico partendo dal presupposto che io sono una scimmia io sono una scimmia che quindi sono sono scemo e non sono in grado di apprendere no scherzo no no assolutamente però iniziamo dai condividiamo questo schermo ok arriva e passiamo al paura siamo la dalle lettrine oggi ne vediamo magari due o tre di lettere ok qualche nota di diciamo a margine l'alfabeto ebraico un alfabeto esclusivamente di consonanti quindi mancano completamente le vocali non esistono suoni vocalici la quindi la oltre ad essere un alfabeto sinistro orso cioè che si legge da destra a sinistra una certa frangia politica questi i bambini di base si legge da destra a sinistra e lo chiamano quadratico un po compliata per dire le lettere di base si potrebbero quasi tutte scrivere dentro un quadratino pensavo rettangolari no esattamente ogni quadratino ce ne sta quindi appunto essendo un alfabeto carente di vocali le vocali ci dobbiamo mettere noi e noi al posto nostro ci hanno pensato i masoretti creando un sistema di puntini e linette che si chiamava che si chiama ancora oggi alberto che sono i masoretti non lo so ferma la situazione perché si chiama masoretti ma fai come i professori che dicano le cose e poi gli acquistano un argomento esatto i masoretti credo fossero alcuni primi studiosi della bibbia però non ne sono particolarmente sicuro la tagliamo dopo questa poi va nei blufers dopo su youtube esatto esatto ma io non taglio nulla perché è faticosissimo fare quindi appunto un sistema di puntini e di linette che appunto si chiama nikud e che per ogni vocale praticamente crea alcune combinazioni di puntini e di linette che servono appunto a leggere ora ho capito via più o meno esatto ora la grande differenza tra l'ebraico biblico e l'ebraico moderno è che l'ebraico biblico riporta sempre quella che si chiama vocalizzazione quindi ogni volta che andremo a leggere la torà o talmud o testi diciamo anche per principianti in ebraico moderno in realtà sai che in tutto questo discorso sarai accelerato no no dai vabbè non frega un cazzo a nessuno lo so è importante ogni volta che si legge l'ebraico moderno per principianti in ikud si trova ma poi tendenzialmente nell'ebraico standard le vocali non ci sono quindi le parole vanno imparate per per gruppetti diciamo di come si dice fotograficamente sostanzialmente ok ok sono carico sono carico quindi 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 andiamo a farti vedere la perché mi è sparita non bisogno lo schermo a me dico perché hai tenuto l'ipad troppo a lungo senso utilizzarlo perfetto e quindi adesso devo rifarlo di nuovo esattamente esattamente dai dai che qui abbiamo i nostri amici che se ne stanno andando no no sono tutti lì restate lì restate lì allora abbiamo già bruciato circa cinque minuti di corso non si ora stavolta non ecco ho rotto tutto ecco iniziamo partiamo da una da una letterina semplice partiamo da un suono ti questo qua ti 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 facciamo rivedere come si scrive uno e due lo scherzo sul mio quadernino esatto esatto opzione consigliatissima per tutti i miei figli dunque ti faccio vedere che non vedo eccolo lì no è un pochino più bassina la gambina guarda piano piano è venuto un po è che c'ho la penna poco buona quindi allora cominciamo a metterci a metterci la vocale perché in realtà questa così nella sfabeto ebraico si pronuncia esattamente te che non ha metti né te né ta c'è in realtà dobbiamo metterci diciamo ta eccolo qua ta 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 allora in realtà in realtà l'ebraico biblico che ne va presente un po come le lingue antiche la differenza tra vocali brevi e vocali lunghe di cui non parleremo qui non parleremo mai che non ci interessa voglio leggere basta chiacchiere però però posso dire la stessa cosa con questo segno qui qui esatto quindi sia questa che questa si leggono ta non è finita non è finita esiste un terzo modo per dire la che è questo qui che ti faccio vedere ora scusa ho cancellato rotto tutto mannaggia e eccolo qui allora questa insieme a questa ta esatto quindi rileggiamole tutte e tre ta 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 esatto cambiamo lettera proviamo con un'altra lettera prendiamo questa lettera qui che è uno s s quindi la regola ormai l'abbiamo capita mettiamoci questa e lo leggerò sa esattamente mettiamoci di nuovo mettiamone due così almeno stavolta si fa più veloce quindi di nuovo questa sa esatto e questa perfetto mettiamo un'altra ancora mettiamo questo sono qua che sono ma come mamma ma lo scriviamo detto che se metto una lignetta sotto è ma esatto 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 quindi ma abbiamo i tre segni che sono questo questo e questo che tutti e tre equivalgono al suono vocalico a a va bene va bene questo non mi interessa voglio solo vedere le paroline le letterine va bene cancella 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 quella cosa allora allora se ho capito bene ta sa ma esatto esattamente sempre lo stesso suono per tutte e tre anticamente suonavano diverse però ora le leggiamo tutte uguali quindi ta 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 ma 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 ok esatto esatto vogliamo provare a fare qualche combinazione sì allora vediamo un pochino quello che possiamo fare se io scrivo questo qua questa è la stessa lettera di prima questa però quando si trova alla fine di una parola quindi in realtà è la stessa è la stessa letterina quindi suona sempre ma come mamma ok allora mettiamoci una vocale prova a leggermelo tam bravissimo ottimo cambiamo cambiamo opzione anzi no guarda facciamo così proviamo a cambiare l'ordine delle letterine questa volta facciamo così matt esattamente esattamente ovviamente le parole stiamo scrivendo non vogliono dire nulla quindi sono semplicemente combinazioni di suoni ancora sat 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 con la z è una zona s questo qua in realtà si dovrebbe leggere come in italiano leggiamo sat esatto 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 ancora dai proviamo un'altra volta mettiamo un'altra lettera mettiamo questo è così ripassiamo questa letterina fa che è la m finale e ci mettiamo questo sam esattamente vedi che stai già leggendo non è così tanto difficile scriviamole anche insieme così almeno le ripassiamo una volta per tutte vai mam esatto mam 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 ripetiamo ancora un'altra dai vediamo ancora di nuovo facciamo così dai taz bravo bravo che ansia ansia da frustrazione facile facile una volta che lo sai facile una volta che lo si sa esatto dunque questo invece dai oddio dove sei dove hai scritto scusa mi sono distratto sono qua ok ok questo è maz maz esattamente bravo 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 maz quindi ecco i suoni che corrispondono alla sam li leggo li leggo da in alto a destra scendendo te li indico io vai mamma bravo vai qua che ansia è così che si sentono i miei studenti quando gli insegno greco questa è una giusta punizione una giusta punizione assolutamente aspetta quella prima la penultima che mi hai fatto vedere se non sbaglio è è Mazz bravissimo Mazz Sam perfetto ora facciamo un giochino io te la punto te me la leggi vai qua vai leggi questa no vai Taz ok Taz Taz qua Sat e qua ancora vai 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 Taz qua Mazz bravo Mazz perfetto wow ne vediamo un'altra di vocale un mal di schiena come se avessi tirato su un cario e pensa che siamo solo a una vocale ce ne sono altre quattro solo quattro meno male A E I O U e questa è una vocale più difficile allora andiamo avanti prendiamo sempre le stesse letterine le stesse letterine di prima quindi di nuovo allora questa come la pronuncio? T perfetto allora se ci metto questo te lo leggi T perfetto cambiamo e questa volta mettiamo un altro suono questo questo qua si legge T T T ah T quella è T T T esatto il primi la prima qua in alto abbiamo detto che è TA TA questo è T senza segni diacritici senza vocalizzazione è TA è T è T questa 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 da sola è T questa da sola è T ok mentre abbiamo visto questo che è TA e questo che è T ok TA non ho finito purtroppo per te quanto è l'alfabeto? l'alfabeto sono 22 consonanti 22 sconsonanti più tutte le più tutti i segni diacritici che sono i segni diacritici e quindi fanno 22 per 4 beh no allora diciamo che i segni diacritici poi si applicano uguali a tutte le lettere quindi diciamo che in realtà io conterei soltanto i similiatrici ci sono circa diciamo 3, 4, 7 sono circa una quindicina di segni eh vabbè stiamo superando però qui esatto cioè oltre le 25 mi sembra eccessivo imparare una lingua e ogni lettera li può pegli a tutti e questa è la cosa meravigliosa io sembra debba dire il telegiornale giovane direttore di noto centro studi morto a seguito dell'apprendimento di lingua della lingua ebraica della lingua ebraica esatto non ho finito purtroppo per te perché questo è T ma anche questo è T e qui aggiungo quindi stai conoscendo adesso la caccolina un'altra lettera in realtà questa è un'altra lettera te la faccio qui accanto questa è la I IE in realtà non è proprio I ma sarebbe IE IE più un suono IE che IE e quindi in realtà abbiamo due modi diversi uno è quello con il segno il solo segno diacritico che è questo qui qua e l'altro è il segno diacritico qui insieme a un'altra letterina che è la IE IE no questo si legge T T T ah e quindi non c'è una differenza di pronuncia? no ti faccio ti faccio un esempio così capisci capisci subito ti scrivo una parola in realtà potresti già anche leggerla guarda M allora questa è la M finale giusto? questo è la il segno che ti ho appena fatto vedere IE questa è la A metti tutto insieme IAM bravo IAM IAM è un potrebbe essere napoletano però è latino invece IAM IAM questo in realtà è il mare il mare ho imparato la mia prima parola e guarda te ne metto un'altra perché l'ebraico da questo punto di vista è una lingua molto smart e quindi ti metto questa che è buono 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 che sta arrivando la sento sta arrivando sta arrivando è una parola correlata dal punto di vista del senso aspetto quella sopra è IAM quella è allora MIAM quasi quella sotto è MAIIM MAIIM che significa acqua perché MAIIM scusa eh se quello sopra è IA esatto mi fai un favore poi mi fai un favore dalla parola perché io ho dei problemi con colori se me le fai tutte bianche perché se no rischio di non vedere quelle verdi non è che ho dei problemi però se me le fai tutte bianche però ma perché ho io dei disturbi chiaramente come vuoi vero però IAM 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 perché ah no aspetta quella è questa è un'altra vocale IIM esatto mi come lo fai a leggere MIM allora guarda il senso in cui leggi è questo MAIIM ma perché ma ah perché vedi che io non vedo non vedo il righino sotto la M te la descrivo tutta aspetta lo vedo perché è come se tu per me è come se tu me la evidenziassi allora questa è la parola ok eccoci qui quindi MAIIM esatto il senso di lettura ecco perché leggere l'ebraico all'inizio era un po' tormentoso non so se ho coniato un nuovo aggettivo tormentoso esatto esatto perché il senso di lettura è questo praticamente quindi quindi qui leggerei MA IIM qual è il problema è che prima di pronunciare qui questo gruppo qui te devi guardare i segni di acritici che ci sono sotto ecco qual è il problema della lettura in ebraico MAIIM esatto MAIIM che vuol dire abbiamo detto prima acqua e guarda guarda è collegata anche alla parola mare mare ti posso dire una cosa il modo di scrivere giusto per rifiatare un attimo che mi sembra già di avere imparato abbastanza il metodo di scrittura perché io ho visto che te hai scritto prima la linea sopra e poi i segni di acritici sotto esatto normalmente qualunque qualunque parola tu voglia scrivere scriviamo per esempio non so questa questa io prima scrivo ma è solo M va bene esatto le altre sono una L e un è un finale non è un suono duro ma è un suono aspirato in questo caso ok in questo caso la parola in questione è MELECH che vuol dire RE ma lo vedremo più avanti però di base quello che facciamo è scrivere prima la parte di consonanti che è qui e poi ci scriviamo sotto ma pazienza ma perché scusa se io scrivo in realtà io faccio così ma non è che non è che è obbligatorio scrivere prima una e poi l'altra ah ok cioè non è che c'è magari c'è una regola però vabbè è che in realtà è molto più complicato secondo me andare cioè come dire prima sopra poi sotto prima sopra poi sotto prima sopra poi sotto però è una questione di gusti personali magari a qualcuno piace e va bene così però in realtà non c'è una regola fissa diciamo normalmente si scrive però prima la parte consonante poi si aggiunge un po' tipo sale e pepe i segni di atleti ok ok tipo sale e pepe mi piace ok va bene torniamo ai nostri giochini quindi dicevamo dai leggimi questa ta bravo qua ti e qui ti 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 allora quindi quel segno di acritico sopra si legge solo in mezzo di parola esatto come yam e beh in mezzo della parola diciamo che in realtà lo puoi trovare all'inizio alla fine non è così però non si legge in fondo se te mi dici che questo si legge ti e quell'altro si dice yam beh sì ma questo è ma vedi questo è il suono y poi tu lo metti insieme alle varie vocali quindi ho capito ma in quella penultima te non lo leggi nella terza quando dici ti te non stai leggendo ti no no ti vuol dire che tu lo leggi quando ti parli sì 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 esatto cioè perché in realtà questo non è la lettera y ma è la combinazione del puntino con la lettera che serve a rendere il suono i ok 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 quindi andiamo avanti allora riprendiamo le stesse letterine di prima quindi prenderemo di nuovo te m e te come prima e proviamo a fare lo stesso giochino di prima quindi abbiamo detto di nuovo dai chi esatto ancora chi esatto ok abbiamo lettera attento sei una brutta persona sei una brutta persona ma ma bravo ancora mi esatto dammi anche questa mi sì e qua ah e questa e questa sarà ta e zza 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 bravo e questa zza bravo ora cominciamo a fare il giochino di prima cioè mettiamo tutte le le letterine insieme allora vai tiz esatto bravo e poi può essere una parola inglese sei un porco non ci ho pensato minimamente veramente mi fai che schifo non ci ho pensato minimamente denunciamolo tiz e poi boobs no scherzo no i nostri amici che studiano l'ebraico si potrebbe c'è gente qui che che sta vedendo questo video per per impararlo davvero quindi per cortesia esatto allora sopra dicevamo tiz esatto e sotto e sotto non posso non ridere e sotto invece team team bravo team perché questo è la è il mem la lettera m finale però scusa e vedi ho un ho un problema più di uno ma lasciamo mettiamoci solo quelli linguistici perché in iam io leggo il segno diacritico i e qui non lo leggo il doppio se non non carico il doppio la doppia lettura perché di nuovo questa ora ti faccio vedere cioè perché questa qua in realtà è un gruppo a sé stante che si legge così ok ah ok quindi quando noi li abbiamo insieme abbiamo un i semplice normale solitaria invece è è da solo diciamo e quindi hai il suono esatto esatto la tratta ce l'hai così e peraltro è combinato ad un altro suono vocalico che è questo quindi in questo caso è semplicemente iam la lettera iod da sola poi in realtà quando è combinata in questi pacchetti che abbiamo visto qui in realtà non si pronuncia nemmeno vedrai dopo più avanti che esiste vabbè te lo faccio vedere già da ora guarda potrei scrivere questo e leggerlo tem tem in realtà qui la i non la senti nemmeno però ti serve soltanto per distinguere il pacchetto di vocale che è questo qua e che si legge e e da solo i due punti si leggerebbe te comunque esatto 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 la i due puntini sotto sono comunque una e perfetto chiaro allora facciamo qualche altro esperimento eh vediamo un po' poi magari dividiamo il video in due parti sì perché poi ricristi se no se sparano allora eh mettiamo mettiamo questa dai eh me l'ho dimenticato allora un attimo un attimo questo è questo è Max Max bravo 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 che bestia poi mettiamo 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 un'altra cosa questa vai Sim perfetto e questa invece sim uguale esatto quindi la stessa parola si può scrivere in due modi diversi l'ebraico è pieno di omografi e per la la per chi appunto non vede le vocali diventa un casino perché ci sono diverse parole che si scrivono nello stesso modo con la stessa sequenza di consonanti ma cambiando i segni sotto cambiano completamente significato un'altra dai così matt bravo 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 ok esageriamo si bravissimo bravissimo cambiamo le carte in tavola e mettiamoci questo vai tazzim oh ma sei mostro allora bravo 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 poi 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 è molto difficile è molto difficile ti dico ma è molto difficile leggere la parola in anticipo perché devo aspettare che sotto tu ci metta i segni diacritici per cui io mi preparo psicologicamente alle alle con le consonanti poi però il che viene tra le due è un attimo una infatti stai sperimentando per la prima volta quella che è la difficoltà di tutti i lettori dell'ebraico i principianti cioè appunto questo caso ti faccio vedere prima questa lettura che va in questo senso e noi siamo abituati a leggere così ma è abbastanza poi se ci uno si abitua sai poi però proprio il dover aspettare il segno diacritico che sai tu mi scrivessi prima la consonante poi il segno diacritico io intanto mi carico e aspetto gli altri invece devo andare lì e poi dire ok ora c'è tutto il resto potrebbe avere anche un senso nel momento in cui perché ti ripeto la stessa combinazione di lettere possiamo leggerla in molti modi diversi e quindi appunto non ha senso scriverti subito le vocali perché non è una parola fissa tanto vale leggere prima i tre caratteri di base e poi aggiungerci perché c'è ok mazzà ma 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 taz esatto ripetiamo per chi ci ascolta sono parole senza senso ma taz si sono suoni sono è quello che poi succede noi facciamo lo stesso anche in greco infatti stiamo diciamo traslando il metodo che noi insegniamo per apprendere il greco ai nostri principianti sull'ebraico e quindi però come vedi a grande riesce riesce molto c'è una benissima la grande c'è una benissima esatto quindi questo dicevamo mentre io parlavo te ne hai fatto un altro mi sbaglio eccolo qui e ma tiz esatto ma tiz ma tiz ma tiz allora in teoria possiamo anche vogliamo aggiungerne un'altra che dici di lettere no di suoni vocalici direi perché le lettere intanto ma scusa abbiamo bello è finito la A e la I in teoria sì praticamente sì la A e la I l'abbiamo finite ma bisogna mettere delle consonanti se vuoi possiamo aggiungere anche qualche letterina se te la senti ma sì aggiungiamo facciamo pausa facciamo pausa magari pausiamo qui sulla prima lezione esatto e ci vediamo alla prossima esattamente alla prossima